Il vigile poi è venuto col verbale in mano a chiedermi Signorina, lei vuole dichiarare qualcosa? Ha qualcosa da dichiarare? E io ero tipo Non so cosa fare! Io non ho neanche più una casa! Buongiorno YouTube! Come state? Io sono in pienissima forma, come potete vedere Mi chiamo Ilaria e come ripeto sempre all'inizio di ogni video sono un'espatriata in Belgio Ma siamo qui oggi per la quarta edizione di Cringing and my past La serie di Storytimes in cui appunto riguardo al mio passato Mamma mia ragazzi, mi sale già il degrado veramente a ricordare queste cose Questo Storytime risale al 2009 Era l'ultimo anno che sono stata a Milano E in quell'anno per alcune situazioni familiari Ero da sola a vivere in una casa Che però era della mia famiglia Però sarebbe stata venduta da lì a qualche mese E io, con il consenso dei miei parenti Insomma, sono rimasta lì a vivere Fino a quando appunto la casa non è stata venduta Ho accennato nel video precedente Che durante quell'anno a Milano non ho praticamente fatto granché Non ho fatto Baldoria Quasi, quasi Quasi, avete capito dove voglio arrivare? Ovvero, sì, tre quarti del tempo ero sempre da sola a fare niente Ma per il resto, ragazzi, cosa facevo? Facevo cazzate Facevo cose che nessuno dovrebbe mai fare, no? E questo per un semplice motivo Io sono sempre stata Per via della mia situazione familiare molto singolare, ecco Piuttosto matura su tante cose Più magari di molti altri ragazzi della mia età Ma su un paio di cose ero veramente una bambocciona Ero una bambocciona totale Avevo di recente preso la patente E usavo la macchina di mio nonno per spostarvi La macchina di mio nonno era una Fiat appunto mezza scassata Perché appunto mio nonno è una persona anziana Non so, non ci vedeva bene, non ci sentiva bene Insomma, non so come avesse fatto ad avere sempre la patente Però era un pericolo pubblico quando giravo in macchina E io con questa macchina mi sentivo tipo Dio Io non so perché ragazzi Ma quando avevo appena preso la patente Guidavo in un modo che Mi sembrava di essere sempre in un rally Non so perché Io facevo di quelle cose Tipo entravo nella rotonda E acceleravo prima di entrare nella rotonda Con la macchina di mio nonno Che vi ho appena descritto Che veramente è un miracolo che io sia ancora qua Comunque la storia che vi voglio raccontare oggi Riguarda appunto quel periodo lì In cui ero quasi senza amici Tranne un periodo di qualche mese In cui avevo conosciuto un ragazzo Avevo conosciuto un ragazzo E lui mi invita a uscire con la sua compagnia di amici Sono persone buone Sono persone molto alla mano Io con loro mi sono trovata benissimo Una sera era weekend E parcheggiare a Milano nel weekend È una cosa da inferno Ero con la macchina sempre la mitica appunto di mio nonno E giravo e giravo e giravo E non trovavo parcheggio da nessuna parte Ho girato per tipo tre quarti d'ora Ero a Porta Genova Per chi conosce Milano insomma E a Porta Genova nella piazza Lì principale passa il tram Ma c'erano anche diversi parcheggi Tutti occupati C'era uno spazio ok E un cartello esposto dove Il cartello appunto della emozione forzata E madonna Io ho visto il cartello Questa è la cosa più dumb Questa è la cosa più stupida Che io ho pure visto il cartello no Però pensate C'è i genitori Quanto potere di condizionamento hanno Io tempo prima Ero una volta in macchina con mia mamma E lei doveva parcheggiare E idem non c'era posto eccetera E ha trovato posto In un'area dove c'era questo cartello Della rimozione forzata E mia mamma ha detto Ma chi se ne frega Io parcheggio qua Perché tanto mettono il cartello Ma poi non ti portano via veramente la macchina Non so perché mia madre abbia detto ciò Però io ho assimilato questa informazione Ero data valida Per tipo nella mia testa Questo cartello non aveva Cioè era di soltanto per fare scena Ma poi non ti portavano via la macchina Quindi chi se ne frega Quindi genitori fate molta attenzione A quello che dite ai vostri figli Perché potrete condizionarli A fare minchiate Ecco come è successo in questo caso Io ho applicato la legge di mia mamma Anche a questo cartello E siccome ero stanca appunto di cercare parcheggio Volevo andare a vedere i miei amici Ho messo Ho parcheggiato lì la macchina Era vicino alle rotaie del tram Però secondo la mia modestissima opinione Non era vicino abbastanza da intralciare il tram Fresca come una rosellina di bosco Scendo dalla macchina e vado a incontrare i miei amici Passiamo due o tre ore abbondanti In questo locale sui navigli E poi rientriamo Questi miei amici abitavano tutti in zone diverse di Milano Però io facevo la figa e dicevo No ragazzi Cioè io ho la macchina Vi porto tutti a casa Verso l'una così Ci avviamo verso la mia macchina E io vedo in montananza un carro attrezzi E insomma ho capito che ero nella merda Però cosa ho fatto Quando ho visto il carro attrezzi ho fatto una corsa Assurda E ho preso le chiavi della macchina in mano Le tenevo in mano così proprio no E sono andata lì correndo Da questi tizi che mi stavano caricando la macchina Proprio in quell'istante E gli faccio No non preoccupatevi Scusate Adesso me ne vado subito Non c'è nessun problema I miei amici tipo scandalizzati Con loro non ho mai ammesso che mi ero accorta del cartello Ovviamente Perché mi sentivo troppo idiota Avevano praticamente caricato la macchina in quel momento E l'hanno tirata giù perché io ero arrivata Ma non è che io Come speravo Potevo andarmene E tanti saluti Senza avere conseguenze di questa cosa no Mi hanno detto Signorina Noi Per il suo geniale parcheggio Abbiamo dovuto deviare Il percorso del tram Sa questo signorina cosa significa Che lei Ha una multa con la ATM Che sarebbe appunto L'azienda trasporti milanesi Minchia mi ricordo ancora la sigla Di circa 1000 euro Io disperata Io disperata E come se non bastasse Il vigile mi fa che Oltre alla multa da 1000 euro Con la ATM Avevo anche una multa di 96 euro Con proprio i vigili No? Mi faccio disperata Ma posso pagare in più volte? Come faccio a pagare 1000 euro? E loro mi hanno detto Sì possiamo direzionarti 96 euro Ma non siamo sicuri Che possiamo direzionarti 1000 euro Quindi Ok Il vigile poi è venuto Col verbale in mano A chiedermi Signorina Lei vuole dichiarare qualcosa? Ha qualcosa da dichiarare? E io Ero tipo Non so cosa fare Io non ho neanche più una casa Io abitavo in questa casa E dopo un paio di mesi Si sarebbe stata venduta Ok Non ci volete credere Ma Il vigile Ha veramente scritto Sulla mia dichiarazione Io non ho Neanche più una casa Quindi Poi dopo circa Uno o due mesi Mio nonno Ha ricevuto questa multa Capite perché Ho dovuto andare via Da Milano adesso? Non scherzo Non è stato per quello Ma insomma Non credo che abbia Fatto particolarmente bene Al mio karma Questa cosa Spero che questa Storia assurda Mi abbia fatto Perlomeno Sorridere Mi abbia fatto capire Che i cartelli Stradali You know Sono lì per un motivo Dopo questa Fantastica lezione di vita Vi saluto E vi auguro Una buona giornata E noi ci vediamo Al prossimo Video Ciao